conferenza cna segno meno per l'economia e per le imprese del territorio screening di massa in partenza anche a fano da venerdì 8 gennaio vince un milione giocando a un euro felicità a soria sport weekend nero e disconfitte per carpegna prosciutto basket e ital service una buona serata a tutti i telespettatori di rossini tv il canale 633 del digitale terrestre bentornati a un nuovo appuntamento con l'informazione del nostro telegiornale in apertura la cronaca per parlare di un incidente intercorso questa mattina nel parco regionale del san bartolo che ha visto coinvolto un escursionista il quale durante un'uscita in sella la sua mountain bike è caduto in un diruppo ad accorgersi di quanto accaduto sono state altre persone che si trovavano lungo i sentieri del parco le quali hanno immediatamente allertato i soccorsi per procedere al salvataggio dell'uomo sul posto i vigili del fuoco che hanno recuperato l'escursionista dalla scarpata nella quale era precipitato dopo aver perso il controllo della bici l'uomo è stato poi trasportato all'ospedale san salvatore per tutti gli accertamenti del caso in apertura parliamo anche degli ultimi aggiornamenti che arrivano dalla regione per quanto riguarda il posizionamento delle marche dopo il 7 gennaio nella fascia rossa arancione o gialla e sul probabile slittamento della riapertura delle scuole superiori come anticipato questa mattina il vice presidente della regione Marche Mirko Carloni ieri sera c'è stata questa conferenza stato regioni in cui il governo ha deciso e ci ha comunicato la volontà di fare un'ordinanza di salute pubblica e di abbassare gli indici con cui si entra in zona arancione quindi dall'1 l'indice RT si entrerà in zona arancione a 1,25 si entrerà in zona rossa questo cambia lo scenario nel senso che nel momento in cui noi come sta già avvenendo saliamo nell'indice e stiamo sfiorando l'1 rischiamo di diventare in modo stabile zona arancione quindi bisogna essere trasparenti e cominciare a spiegare che questa situazione non è più una situazione di breve termine ma diventerà una situazione di medio termine che potrebbe anche avere conseguenze sull'economia in modo molto significativo durante le festività nonostante le ristrettezze l'indice è continuato a salire quindi significa che i contagi non sono avvenuti nei bar nelle palestre o nei ristoranti ma sono avvenuti nelle case inoltre la scuola è un grande tema perché è sempre più evidente che il contagio più la positività più alta sta nei giovani dei 10 ai 19 anni che sono completamente asintomatici e che però fanno da vettore e contagiano i loro familiari i loro cari quello che noi stiamo pensando è che sia giusto evitare una apertura delle scuole il 7 che per qualche giorno poi stia stabile fino al weekend successivo quindi rischiamo di fare questo effetto per cui si aprono e si chiudono le scuole in modo irrazionale allora la valutazione è se vale la pena il 7 riaprire tutto con il rischio di fare riaumentare l'indice dei contagi oppure essere più prudenti dall'inizio e fare in modo che ci sia una stabilità nella curva noi lavoriamo per fare in modo che le marche rimangano a zona gialla dal 7 in poi primo obiettivo secondo obiettivo riteniamo opportuno che le scuole rimangano a distanza ovviamente stiamo parlando delle superiori e quindi è una valutazione che farà il presidente e che stiamo facendo tutti quanti insieme dei pro e dei contro ma penso che andremo in questa direzione e proprio sul tema della scuola è arrivata poco fa la conferma dello slittamento della riapertura degli istituti superiori che posticipano quindi il ritorno tra i banchi degli studenti continuando con l'attività di didattica a distanza questa è la decisione della Presidente Acquaroli e della Giunta regionale anche in seguito ai nuovi numeri di positività al Covid-19 riscontrati nel territorio regionale vi forniremo maggiori approfondimenti su questa tematica nell'edizione di domani sera del nostro telegiornale in primo piano si parla anche di economia con i dati illustrati questa mattina nel corso dell'annuale conferenza della CNA numeri pesanti che descrivono un quadro critico per le imprese e per i diversi settori del territorio in primis quello dell'export al termine di un anno incerto a causa dell'emergenza Covid è un colpo durissimo quello inferto dal Covid alle imprese della manifattura e dei servizi nella provincia di Pesaro e Urbino il report annuale presentato dalla CNA nella cornice del rinnovato cantiere Rossini segnala il grave momento attraversato dall'economia locale e regionale molteplici settori in difficoltà tra cui manifattura, turismo, servizi e cultura con i mercati internazionali bloccati dalla crisi pandemica uno dei peggiori dati è registrato dall'export, meno 13,2% rispetto al 2019 le nuove imprese nella provincia di Pesaro e Urbino calano rispetto all'anno precedente del 23,7% mentre prendendo in considerazione il decennio 2010-2020 sempre a livello provinciale si assiste ad una diminuzione di imprese attive per anno che si attesta attorno ad un meno 9,4% tra i pochi settori che vedono aumentare le iscrizioni di nuove imprese c'è quello dei trasporti e del magazzinaggio cresce anche il numero di realtà attive nei servizi ad alto contenuto di conoscenza per quanto riguarda la domanda di lavoro nel terzo trimestre del 2020 sono favorevoli i numeri di tutto il territorio regionale la fotografia scattata dalla CNA si conclude con il rapporto tra assunzioni e cessazioni che solo nella provincia pesarese rispetto al restante territorio marchigiano registra un saldo negativo con il numero di cessazioni che supera quello delle assunzioni di circa 200 unità la situazione è una situazione difficile perché naturalmente non era previsto in nessun modo un calo dell'export, dell'economia, delle nostre imprese specialmente quelle manufatturiere, del turismo in questa portata i dati più significativi per la nostra provincia e regione perché sono dati comuni sostanzialmente sono un calo dell'export del 13% ricordiamo che la provincia di Pesaro vive di export specialmente per le proprie produzioni specialistiche della meccanica, del mobile arredamento ma il turismo ha avuto una debacle assoluta è stata una debacle tecnica non sicuramente dovuta a mancanza delle nostre strutture ricettive le attività manufatturiera hanno sofferto molto tessile meno 27% mobile e meccanica con quale due cifre naturalmente anche nel settore del mobile arredamento non per tutti è stata la stessa si è avuto la stessa calo sicuramente per quello che riguarda i consumi civili c'è stato un rimbalzo se vogliamo per tutto quello che è legato all'impresa le nuove attività, i negozi c'è stato un tracollo naturalmente e quindi a questo dovremo affrontare in quest'anno che viene che sarà assolutamente un anno di trapasso come diceva bene il sindaco prima senza un controllo e una stabilità sanitaria non c'è economia che tenga Un ringraziamento va dato alla CNA di Pesaro Urbino per quello che ha fatto in questo anno drammatico dove proprio su questa provincia la pandemia ha colpito pesantemente perciò come associazione quello che loro hanno fatto insieme alla prefettura insieme alle amministrazioni insieme alla regione insieme alla Camera del Commercio è veramente un plauso poter dire che hanno aiutato le imprese tramite i protocolli con la regione e i vari incontri per far sì che le imprese potessero tenere aperte quelle che in quel momento a prescindere il colore della regione potevano restare aperti è veramente un valore aggiunto Sì, è un anno dove abbiamo toccato il fondo della nostra economia mettendo in crisi gran parte del sistema e adesso dobbiamo ripartire ripartire vuol dire vaccinarsi fare in modo che si raggiunga l'immunità di greggia quanto prima e si potrà ripartire con le nostre imprese noi come regione marca nel frattempo dobbiamo cogliere questi mesi che ci aspettano fino al rimbalzo economico che dovrebbe essere previsto nella seconda parte del 2021 per mettere in campo tutte le risorse pubbliche che ci arrivano dall'Europa, dallo Stato e anche le nostre proprie per favorire gli investimenti e nuove assunzioni La pagina degli aggiornamenti per quanto riguarda il Covid-19 sul territorio regionale il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 3.038 tamponi 2.321 nel percorso nuove diagnosi di cui 1.506 nello screening con percorso antigenico e 717 nel percorso guariti con un rapporto positivi testati pari al 15,3% i positivi nel percorso nuove diagnosi sono 355 di questi i casi registrati nella provincia di Pesaro e Urbino sono 76 a livello regionale sono 34 i casi sintomatici rilevati alto anche il numero dei decessi comunicato questa sera dal Servizio Sanità della Regione 19 sul territorio marchigiano e ora ci spostiamo a Fano perché è tutto pronto per lo screening di Massa che interesserà anche la Città della Fortuna Mondolfo e i comuni limitrofi i tamponi verranno eseguiti gratuitamente e senza dover prendere appuntamento a partire da venerdì 8 fino a mercoledì 13 gennaio i dettagli nel Servizio di Simone Celli non più di un quarto d'ora è quanto basta per conoscere l'esito del proprio tampone lo garantiscono i promotori dello screening di Massa Anticovid-19 che sta per partire anche per i cittadini di Fano Mondolfo Cartoceto Monbaroccio e San Costanzo da venerdì 8 a mercoledì 13 gennaio sarà infatti possibile partecipare in modo sicuro volontario e gratuito al monitoraggio promosso dalla Regione Marche l'obiettivo è quello di individuare il maggior numero di asintomatici per poter così arginare il contagio quali saranno le modalità gli orari e le location? i cittadini che non appartengono alle categorie escluse che sono sostanzialmente i bambini fino a 6 anni i soggetti già affetti da Covid-19 i soggetti in quarantena in isolamento per positività gli ospedalizzati e quant'altro che ha diritto a accedere ai siti volontariamente cercando ovviamente in caso dovesse trovare un pochino di fila di avere pazienza il periodo è dall'8 al 13 di gennaio quindi da venerdì 8 a mercoledì 13 i siti sono due a Fano il primo presso l'Excodma con 10 postazioni il secondo presso la palestra Venturini con 5 postazioni il terzo al Bociodromo di Marotta con 5 postazioni infine ma solo per le giornate di lunedì 11 e martedì 12 sono stati previsti altre due postazioni in un sito localizzato nel territorio a metà strada fra i comuni di Monbaroccio e Cartoceto presso il ristorante La Tagliata c'è un modulo da compilare per richiedere lo screening e per dare il consenso appunto all'effettuazione del tampone che può essere scaricato dai siti del comune dal sito dell'Aria Vasta oppure può essere compilato al momento dell'accesso al punto in cui verrà fatto il tampone al banco del personale della protezione civile o della Croce Rossa Noi puntiamo e la programmazione è stata basata su questo a riuscire a fare lo screening quindi a testare almeno il 30% della popolazione dei vari siti che prima dei vari comuni che prima ho elencato quindi ora la zona del Fanese successivamente la zona di Valle Foglia e Terre Rovereschi con le Amnetauro e nell'ultima fase l'alto Montefeltro prima la zona sud e poi la zona nord uno screening quanto mai urgente dato l'andamento della curva dei contagi l'invito che voglio rivolgere veramente a tutti è quello di andare a fare questo tampone a tutti dai più giovani e meno giovani è fondamentale in una fase come questa dove la curva tende a salire e quindi il rischio che le contaminazioni e i contagi tendano a crescere e conosciamo tutti quelle che rischiano di essere le conseguenze ulteriori restrizioni con tutte le conseguenze e allora facciamo questo gesto che è fondamentale per tutelare la nostra salute e quella dei nostri cari quindi non sprechiamo questa opportunità andiamo a fare tutti quanti i tamponi ci servono per avere un dato una fotografia della situazione reale ma anche di focalizzare e bloccare l'eventuale estensione dei contagi quando un mese fa come Regione Marche abbiamo deciso di intraprendere questo percorso dello screening di massa inedito un po' in tutta Italia proprio pensavamo e temevamo di ritrovarci in questa situazione cioè una situazione post feste natalizie che vedeva una ripresa dei contagi purtroppo avevamo visto bene e questa iniziativa serve e tende proprio a cercare di individuare prima che il contatto diciamo così il contagio si possa propagare tutti gli asintomatici presenti sul territorio siamo partiti dai capoluoghi diciamo che c'è stata una partecipazione discreta ma assolutamente non sufficiente per poter mappare compiutamente il territorio il richiamo è forte perché tutti quanti ci sottoponiamo a questo tampone nei prossimi giorni in modo da far sì che la ripresa dei contagi possa essere la più limitata possibile perché altrimenti il rischio è di ritornare in zona rossa e di avere tante sofferenze ancora come l'anno scorso aprile e abbiamo visto i scorsi mesi possiamo quindi dire che siamo alle porte di una terza ondata siamo indubbiamente alle porte di una terza ondata ma lo stiamo già vedendo ed è stata una vincita formidabile quella di un cittadino pesarese che con il gioco di una schedina dal valore di un euro si è ritrovato tra le mani un biglietto dal valore di un milione tanta l'emozione anche per la tabaccheria 2000 del quartiere Soria dove si è verificata questa grande vittoria cinque numeri e una somma che cambia la vita il nuovo anno ha portato con sé una vincita formidabile per un fortunato cittadino pesarese di mezza età che grazie alla giocata della solita schedina da un euro si è ritrovato in mano un biglietto dal valore di ben un milione un evento fuori dal comune che oltre al diretto interessato ha investito di entusiasmo anche i titolari della tabaccheria 2000 nel quartiere di Soria punto vendita in cui si è registrato il grande evento è stata una cosa stupenda perché oltre a essere emozionato emozionata la persona che ha vinto mi sono emozionato anche io perché mi è saltato addosso e quindi è stato bellissimo un'emozione che non avevo mai provato in 28 anni che sono qua c'era stata una vincita di 10.000 euro qualche anno fa però come questa non sapevo neanche con quanti zeri si scriveva un milione e quindi è stato stupendo sì era molto molto emozionato anche perché cosa faccio cosa non faccio come mi gestisco come non mi gestisco è stato veramente un'emozione per tutti e due sono contento perché comunque è andata sono andati questi soldi a una persona che non era un ricco non era un povero ma era una persona normalissima e ha cominciato l'anno veramente col botto lui gioca sempre questa schedina qua sempre questi numeri qua non so a che cosa sono legati questi numeri anche perché poi è un gioco che non tutti conoscono il million day si devono giocare per forza obbligatoriamente 5 numeri da 1 a 55 quindi non sono i 90 numeri classici dell'otto quindi è anche più semplice si vince prendendone 2 o 3 o 4 o tutte 5 logicamente parliamo anche dei saldi perché arriva da confartigianato la richiesta di dare via alla scontistica per il settore commercio anticipando la data prestabilita del 16 gennaio con la speranza che serva a prolungare l'onda lunga degli acquisti del periodo natalizio una richiesta che arriva in seguito alla decisione adottata anche da altre regioni come l'Abruzzo di partire con i saldi già nei primi giorni del mese e che vede nella scontistica invernale una possibile boccata d'ossigeno per tutti i commercianti e la Befana più famosa d'Italia è arrivata in anticipo per i bambini ricoverati all'ospedale pediatrico Salesi di Ancona nonostante la pandemia la Befana di Urbania non rinuncia a regalare un sorriso ai bambini che trascorrono questi giorni lontani da casa ieri una delegazione di Befana e di Urbania ha consegnato davanti il presidio ospedaliero calze piene di caramelle e dolciumi alle infermiere del reparto di pediatria che si occuperanno poi di farle avere ai piccoli pazienti a causa del covid la festa nazionale della Befana che si tiene annualmente dal 4 al 6 gennaio quest'anno si trasforma in una versione completamente digitale grazie alle iniziative messe in campo dalla Proloco di Castel Durante tutte le info sono disponibili sul sito www.ilnatale che non ti aspetti punto it e questa mattina al San Decenzio si è svolto il primo mercato dell'anno con un giorno di anticipo rispetto alla naturale collocazione settimanale per evitare la zona rossa che scatterà nuovamente anche nella regione Marche per le giornate di domani e di dopodomani nella prossima intervista Giovanni Rinaldi di Amba Confesercenti ci ha parlato delle difficoltà legate alla pandemia e delle speranze per l'attività degli ambulanti nel 2021 è stato purtroppo un anno molto molto difficile un anno a livello sanitario disastroso e a livello economico a seguita ruote è stato veramente un anno molto difficile veramente non ce l'aspettavamo però grazie comunque ai vari comuni al Comune di Pesaro al Sindaco Ricci all'assessore Franco e Luci alla Stefania Marchionni e a tutte le istituzioni siamo riusciti comunque da maggio a lavorare a lavorare sempre che ci ha dato una mano primo mercato dell'anno che si svolge in una data diversa da quella che solitamente vede le bancarelle qui al mercato San Decenzio per la zona rossa che ritornerà domani anche qui nelle Marche a Pesaro sì abbiamo chiesto all'amministrazione di poter anticipare il mercato lunedì 4 gennaio in quanto domani zona rossa l'amministrazione ha accettato e ringraziamo che ci ha fatto fare il mercato e anche i vigili che stanno girando la protezione civile hanno fatto i sensi unici quindi tutte le protezioni e tutte le norme anti-covid sono rispettate e abbiamo preso questo giorno di lavoro in quanto qui stiamo lavorando a singhiosto due giorni chiusi un giorno si lavora poi tre giorni chiusi e comunque anche per noi è difficile sia programmare il lavoro sia affrontare i pagamenti che comunque quelli hanno scadenze fisse io sono sempre positivo vedo sempre il bicchiere mezzo pieno però comunque questo clima di incertezza che è zona rossa zona arancio crea insicurezza nervosismo anche un po' di cattiveria nelle persone perché comunque sia noi ci viviamo col nostro lavoro ci mangiamo quindi non sapere se tra due giorni possiamo lavorare o non possiamo lavorare ci crea molto molto disagio ma così per tante attività perché purtroppo il governo non ha una linea ogni 3, 4, 5 giorni e settimana si cambia le carte in tavola domani chiusi poi aperti insomma ci fa preoccupare e innervosire spero che i mercati possano continuare a svolgersi regolarmente anche perché poi gennaio, febbraio, marzo sono storicamente periodi dove ai mercati c'è un notevole calo sia di vendete che di clienti quindi assembramenti non c'è rischio di assembramenti al mercato soprattutto questi periodi invernali In chiusura di questa edizione del nostro telegiornale come ogni lunedì apriamo la pagina sportiva per raccontarvi i match delle squadre locali protagoniste Carpegna Prosciutto Basket e Ital Service che però in quest'ultimo fine settimana hanno portato a casa due sconfitte Il 2021 si apre con delusioni e sconfitte per le squadre pesaresi impegnate nei match del primo fine settimana sportivo del nuovo anno Iniziando dal basket la Carpegna Prosciutto sfiora il successo sul parquet del Mediolanum Forum contro la capolista Armani Milano che nella quattordicesima giornata di Serie A conquista i due punti con il risultato finale di 97-93 40 minuti giocati in modo ottimo da parte dei ragazzi di Coach Repesha i quali ad una partita dal termine del girone d'andata rimangono a quota 12 tra i pesaresi il miglior realizzatore del match è Carlos Delfino autore di 23 punti Abbiamo lottato abbiamo lottato sicuramente siamo stati bravi per 40 minuti a lottare i primi tre quarti abbiamo messo in serie a difficoltà grazie alle nostre esecuzioni in attacco e poi la loro zona ci ha un po' bloccato e da quella situazione lì dove ci siamo bloccati ne è scaturito anche che abbiamo subito in difesa 58 punti nel secondo nel secondo tempo e abbiamo giocato punto a punto e poi gli episodi sono andati a favore di Milano peccato perché comunque volevamo vincere venivamo venuti qua per vincere e peccato aver mollato un po' in difesa contro una squadra comunque al top in Italia lo sappiamo Milano se sarà una partita molto importante con Brescia in casa dovremmo riguardare quello che non ha funzionato in difesa perché vogliamo sempre migliorare ogni partita vogliamo far sempre meglio di quello precedente e riguarderemo qualche aspetto della nostra difesa e cercheremo di sistemare anche l'attacco su determinate cose però ci abbiamo una settimana di tempo per prepararci e ci prepareremo al meglio durante tutta la settimana esordio sfortunato anche per il calcio a 5 per l'Ital Service nella prima gara del 2021 è arrivata la seconda sconfitta stagionale a Catania la meta ha avuto la meglio per 4 a 3 sui biancorossi una partenza del nuovo anno poco brillante come successo ad inizio campionato nella prima giornata di Serie A tramutata in KO dal Mantova nonostante ciò c'è comunque una notizia positiva complice la sconfitta del Real San Giuseppe nel recupero contro il Petrarca Padova i biancorossi sono matematicamente secondi al termine del girone di andata e sono quindi qualificati ufficialmente per le final eight di Coppa Italia senza dover passare per gli spareggi e questo era davvero il nostro ultimo servizio vi ricordiamo la programmazione di questa sera alle 21.15 andrà in onda una nuova puntata di palcoscenico Marche in cui si parlerà del teatro Tiberini di San Lorenzo in campo questa sera come tutti lunedì alle 21.15 a seguire alle 21.30 il documentario di Gastone Mazzanti le stelle continueranno a brillare Pesaro raccontata negli anni tra il 1935 e il 1945 vi riproporremo quindi le repliche di questo documentario questa sera alle 21.30 e poi per tutti i lunedì e ovviamente domani mattina alle 7.20 in diretta torno a puntuare l'appuntamento con l'informazione della nostra rassegna stampa grazie per averci seguito in questa edizione del nostro telegiornale e vi auguriamo un buon proseguimento di serata su Rossini TV